Violenta grandinata stamattina nel Comasco, raffiche di vento e picchi di ghiaccio hanno sferzato anche il centro di Como. In tarda mattinata il cielo si è fatto plumbeo e nel giro di pochi minuti si è scatenata una bufera. Prima un'acquazzone, poi l'acqua si è trasformata in ghiaccio. Poco dopo le 11.30 è iniziata una fortissima grandinata che ha scaricato pallini di ghiaccio fino a 2 cm di diametro su tutta la città. I tombini sono saltati, le strade si sono trasformate in fiumi bianchi di grandinata. La fase più acuta della bufera è durata fino a mezzogiorno, ma l'acquazzone è continuato per quasi un'altra mezz'ora. In totale un'ora di maltempo violento, un'ora nella quale i telefoni e i vigili del fuoco hanno spillato senza sosta. I pompieri hanno effettuato 15 interventi nella fase più acuta, principalmente allagamenti ma anche messa in sicurezza di piante pericolanti. Grazie. 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 Grazie.